Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono ObsiaMaker e oggi stavo per preparare il video del Brawl Pass Quando sono stato stupido, perché ho shoppato le gemme per il Brawl Pass Quando potevo shoppare questa offerta, prendere due megacassi in più e duemila oggettoni e le gemme Ma non fa niente, perché tanto, vabbè Abbiamo molte cose, abbiamo tutto il pass, il pass gratis no, ma abbiamo il resto del pass da aprire Quindi andiamo subitissimo, e compriamo il Brawl Pass Si è buggato, ok, perfetto, Brawl Pass sbloccato Ora, prima di tutto 50 punti di energia, che io darei immediatamente al Gekky Perché, ok perfetto, allora, ora iniziamo veramente il Brawl Pass Perché ha detto ciò, ah vabbè, ho sbagliato Iniziamo con Brock Super Ranger Iniziamo con questa nuova skin di Brock Nuova, che non è però, finalmente ho qualche skin perché non ho mai skin per niente La prendiamo subito E passiamo subito con una bellissima megacassi, magari possiamo trovare qualcosa Ricordatevi, se vedo 4 skip c'è qualcosa Invece 3 skip, quindi non c'è niente Non fa niente, tanto, mi accontento 200 del doppio gettoni, perfetto, andiamo avanti perché non ho molto tempo, in che senso? C'è un bug con la registrazione che se il video dura troppo, poi non me lo fa caricare Quindi sbagliamoci immediatamente Però gustiamocelo allo stesso tempo 100 gettoni Gettoni, sto mezzo drogato 100 monete Una cassa enorme bellissima che apriamo immediatamente, forza Due oggetti, ma niente, niente di niente Non fa bene, vabbè Poi, altre 100 monete succurenti in cui posso preshoppare, prendere altra roba E una cassa enorme Poi abbiamo un'altra cassa enorme Abbiamo un'altra cassa enorme Dai, qualcosa di utile Dai, dammi qualcosa Niente, niente di niente No, non va bene, non va bene Ragazzi, potere alle mani Vai, lo apro con il ginocchio Se ci riesco, lo apro con il ginocchio L'apro con il naso Non riesco con tutta la lavora con il pollice Due oggetti, sempre due oggetti E non va bene Così non mi esce Il nuovo brawler o qualcos'altro di nuovo Maga cassa, dai Quale ci dovesse per forza qualcosa Non mi interessa Quale ci dovesse per forza qualcosa E niente di niente Ah, beh, almeno posso maxare qualche brawler Però vorrei qualcosa di utile Niente di niente 100 gettoni 100 monete Vabbè, ancora Vabbè, mi sono messo male Cassa enorme Allora, per favore Dai Non è balla Proseguiamo diretti Finché troveremo Prima o poi qualcosa Non brilla mai Trovo cose Solo quando Non faccio i video Non c'è Non sempre però Allora, abbiamo quasi maxato Anche Jackie Benissimo Vai 2 oggetti Niente Niente 100 Oh, è bello Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere Allora Jackie deve essere maxata Jackie l'abbiamo maxata Gelindo Beh, sì, stiamo andando molto bene Bene, continuiamo 200 monete E finalmente ragazzi Siamo arrivati Dove volevo arrivare A energetic Possiamo sbloccare Energetic E andiamo Sblocchiamo energetic Benissimo Non c'è rumore Vabbè Facciamo un bello screen Continuiamo E abbiamo anche le reazioni Di energetic Benissimo Alleluia Ora Potremmo mai trovare Qualcosa di utile Spero di stile Vai Che è enorme C'è più due oggetti Ma con i tre oggetti Si fa qualcosa Cioè Vuoi sapere questa cosa Ti scrivetelo nei commenti Energetic Che piange Poverino Mega cassa Mega cassa Tre oggetti ragazzi C'è qualcosa Ah no Perché abbiamo anche Energetic Ora Cavolo Giusto Ah Noi niente Andiamo sulla cassa enorme Ce l'abbiamo ancora Trovato nessun Brawler Nessun gadget Ma è possibile E pure a me I gadget Mancano 100 punti di energia Li diamo immediatamente A corvo O energetic Energetic Dai Vediamo Energetic Perfetto 200 monetine Guarda Quanto sono succose Un'altra azione Energetic In cui è Innamorato Felice Vabbè Quante cose Ce ne rimangono Ce ne rimangono Veramente ancora Tantissime Che Spag... Si è Esploso tutto Esploso tutto Esploso tutto È un grande Spacchettamento Continuo dai Cassa enorme Tre oggetti Forse c'è qualcosa E no Neanche qua Cassa enorme Tre oggetti Qualcosa No Beh ok Che ci portiamo su Però Va energetic Quello potenziato al massimo 200 punti 200 Oggettoni Punti Energia Li diamo a corvo Mega Cassa Guarda qua Quanto Potente Guarda che potente Tre oggetti Niente Oh raga Ma È da un bel po' Che abbiamo Abbiamo aperto Chissà quante Cassa Non abbiamo ancora Trovato niente Non è Non è possibile Questa cosa Ma è sfortuna Questa È veramente Tanta sfortuna Vediamo una cosa Ma Ah beh sì Adesso ci ha sbloccato Il nuovo brawler E proprio Se io già Non stavo lì Potenziamolo subitissimo Però non voglio Portarlo a livello 6 Perché Come sapete Se poi Vabbè Tanto si è formato A livello Cioè a livello 7 Allora Quanti ne ha Ma aspettate Ah di Abbiamo quasi Potenziato corvo Benissimo Benissimo Cioè abbiamo ancora 19 soldi Per là Prendiamole subito Cassa enorme Tre oggetti Niente Niente Quanto è la percentuale Ma mi sembra Veramente un po' strano Quanto è la percentuale Eh si sta alzando Quella dei leggendari Però Non trovo Comunque niente Vai Energetic Con la Con la bomboletta Ma non mi ricordo Che cosa ha dentro Ha l'energy drink Giusto 200 oggettoni Questa è Energetic Arrabbiato Energetic Vabbè Io non so distinguere Molto Casse enorme Casse enorme Tre oggetti Niente Niente di niente Vai Nuova reazione Oh questa è leggendaria Cioè perché Non Non ha La vita Le reazioni Non ne ho Molte Assolutamente pochi 200 punti energia Li diamo a corvo E il resto Ce li dà in soldi Giusto Esatto Mamma mia Abbiamo maxato Corvo Casse enorme Apriamo E Due Due Vabbè perché Mai Corvo Abbiamo maxato Anche lui Ora se c'è Tre oggetti C'è qualcosa No Non ci vuole Fatturare niente Il gioco Perché non Sono da pochissimo Leggendario Uffa Nuova reazione Molto carina Sempre Col cuore Casse enorme Non abbiamo trovato Niente Mi è contento Di aver maxato Ma non abbiamo trovato Niente E ora poi Non abbiamo più Niente di buono Abbiamo 300 Non abbiamo più Casse Cioè abbiamo Le reazioni Alte 500 punti Mamma mia Li diamo subito A gelindo Abbiamo maxato Anche gelindo Nuova reazione Dammi Benissimo E energetic Qua la dì Non abbiamo pure Questa Alta skin Questa è bellissima La terra scura Ho fatto male Vabbè Perfetto ragazzi Non abbiamo trovato Niente di che Però Come dire Io sono felice Perché Guardate un pochino Abbiamo maxato Tutti Manca solo energetic Da maxare Cioè Wow Ci manca solo energetic Da maxare Abbiamo maxato anche Gelindo Wow Wow Veramente qua Quindi Se in un prossimo video Troveremo due oggetti In una cassa Ovviamente ci sarà qualcosa Non abbiamo trovato niente oggi Ma La percentuale Si è alzata Dei generi A 0,1 Quindi magari Potrò trovare qualcosa In seguito Comunque Abbiamo 3.000 monete 3.500 monete Abbiamo ragazzi Ovviamente Ci si comprano Le stellari Ci si compra un po' di roba Però Intanto me ne tengo Purtroppo Se avessi comprato questa Avrei ottenuto Due mega cassa In più Ma Va bene Va bene Lo stesso Quindi ragazzi Io Spero che vi sia piaciuto Spero che non sia durato troppo Altrimenti Mi esplode la webcam E Vi ringrazio la visione E noi ci vediamo nel prossimo Speriamo di trovare qualcos'altro Ciao ragazzi Ciao ragazzi